Io accetto delle parole di qualsiasi genere, anche di biasmo, di rimprovo, da chi ci lavora, di chi ogni giorno spende la vita qui, allora sì, ma non delle chiacchiere, delle accuse così facili. Lo dicevo prima, la domanda stamattina, tutti i giornalisti facevano la domanda, ma si aspettavano come se facessimo un grido di sultanza su una simula campana, ma questo non è evangelico, perché nel Vangelo il Dio cerca i bei di tutti, è chiaro che siamo contenti che la giustizia vada avanti, e che è una cosa che il parroco ha detto più volte stamattina, che la giustizia deve continuare ad andare avanti, e per giustizia non significa solo punire i malviventi, ma significa assicurare delle condizioni di vivibilità a chi ha sempre fatto il suo dovere e continua a farlo. A proposito di vivibilità, molte persone che abbiamo intervistato qui per strada, anche qui davanti alla chiesa, hanno proprio il timore che la vivibilità del paese possa subire delle ripercussioni negative. Ma questo sarà… Perché il paese è tranquillo, c'era il boss, comandava tutto l'unico. Certo, ma il paese non è tranquillo perché c'è il boss, il paese è tranquillo perché è un paesino tranquillo. Ecco, quindi secondo lei è proprio la comunità che è tranquilla. Il paese è tranquillo perché ha trovato i suoi equilibri con il boss, questo sì, ma il paese è tranquillo perché è tranquillo, perché è brava gente. Però comunque abbiamo notato che in ogni caso… Questo destabilizza tutto un sistema, questo è vero. Un'altra domanda che mi facevano stamattina, lo rispondevo, adesso tanta gente che lavorava ma non serviva al boss, lavorava a giornata, lavorava, non faceva male, lavorava nell'edilizia o qualsiasi cosa, rimangono bloccati, tante imprese sono bloccate, perché? Perché sono tutti imparentati qui in paese e questa è una situazione molto triste. Però comunque abbiamo notato che lo ammirano come un mito. E questo molte volte capita. Lo chiamano addirittura Michele a nome, cioè non dicono il Zagareo, il boss o lui, chiamano Michele. Sì, sono dei luoghi comuni, però parlando con la gente, se tu ci rifletti, li fai riflettere, discuti con loro, nessuno approva la violenza. Questo l'abbiamo notato. Non c'è nessuno che approva la violenza, non c'è nessuno, qualora uno li fa riflettere sulle conseguenze di questo sistema di vita, non c'è nessuno che è favorevole. Serve una bugia. Io mi sentirei un colpa se parlassi, a parte io sto qui, ci sto qui perché uno crede nella missione che fa e ci sto qui bene, perché tanta gente ti vuole bene e si lavora. Certo, poi anche con i giovani tu lavora. Si fa la fatica di ogni posto, la fatica di far crescere dal punto di vista umano, culturale, ma d'altra parte tanti preti che vivono in contesti sociali diversi fanno la stessa fatica. E' che qui stiamo nel mirino delle telecamere, nell'occhioio delle telecamere e gli altri no. E per quanto riguarda la discussa omelia di questa mattina? Ma stamattina forse ci sono scandalizzati che io non ho... Lei non ha citato la parola camorra? No, non ho nominato la parola camorra. Come mai? Perché la sanno tutti. Secondo lei non c'era da commentare o comunque da elargire qualcosa? Ma stamattina se fossero stati attenti i giornalisti, purtroppo i giornalisti stanno attenti a quello che vogliono sentire. Io ho preso spunto del Vangelo e ho detto che noi viviamo in una terra maledetta. L'ho detto chiaramente, in una terra maledetta. E nella terra maledetta chi vuole il bene lo deve ricavare con le sue fatiche. E non bisogna scoraggiarsi di continuare a fare il bene. L'ho detto chiaramente, poiché non ho detto la parola magica, è come la password di un computer, non si attivano. La nostra terra è maledetta, è maledetta perché? Perché il bene si paga a caro prezzo, ma in ogni luogo qui in maniera particolare. Allora il cristiano deve avere il coraggio di pagare di proprie spese. La sola appartenenza a questo paese, tu già sai queste cose, la sola appartenenza ti impedisce qualsiasi sbocco lavorativo, l'impiego sociale. Questa è la vera chiama. E' una grande piaga, sì, è una piaga. Per cui quelli che potrebbero, io molte volte, ma tantissime volte parlo con famiglie che potrebbero dare molto, e loro non hanno possibilità di emergere. No. Quindi per dire, per esprimere in positivo quello che invece magari si è frainteso, bisognerebbe dire che ciò che è accaduto ieri deve dare coraggio alle persone più giovani, a quelle che lavorano, a non demordere, ma senza parlare male di nessuno. Fermo restando che il male è compiuto, rimane male. Una domanda che comunque la riguarda quasi direttamente, molte volte notiamo anche dai film che queste persone mafiosi, i camorristi, sono a loro modo molto religiosi, vanno in chiesa, le loro mogli vanno in chiesa, dipingono quadri, nei loro bunker sono... La risposta, io, l'idea è... Cioè, secondo loro, secondo lei perché lo fanno? Credo che l'idea... Per fregare Dio? No, 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 no. L'idea è perché è l'immagine di Dio che hanno. Il pensiero mi è sempre stato chiaro. Le parole giuste me le diede il Vescovo attuale, Spinillo, qualche mese fa. E parlando a Tubertù, lui disse, loro credono in un Dio di potenza. Di potenza? Di potenza. E non nel Dio di misericordia, di umiltà, di condivisione, che è il Dio cristiano. Loro credono nel Dio di potenza, Dio di autorità. E quel Dio serve bene questi sistemi. Ma se guardi nella storia della Chiesa, i sistemi totalitari si sono serviti sempre di un Dio di potenza. Molte volte, purtroppo, è stato anche il Dio cristiano. Cioè, sono serviti dell'immagine del Dio cristiano. Non è il Dio cristiano. Non è il Dio in cui crediamo noi. E allora si ha quell'imbarazzo che imbarazza anche il nostro. Se uno non è avveduto, rischia di prendere delle scivolate. Perché tu pensi che la persona sia magari in coscienza retta, ma abbia un'informazione errata della identità della fede. Un po' come i fondamentalisti islamici. Un po' come i fondamentalisti, un'altra forma questa. Senti, Vittorio, tu davvero pensi, perché molti ci hanno detto che non cambia niente, non hanno arrestato, non, ma qua tanto siamo sempre allo stesso punto. Chi lavora, lavora. Chi non lavora, non ha molte possibilità in più. Anzi, forse effetti. Invece, tu che pensi? Con questo duro corpo, credi che ci sia più futuro? Tu dici, dopo l'arresto di ieri, questo è quello che è accaduto ieri, deve infondere coraggio al cambiamento, all'ottenimento del bene. Secondo te può essere uno stimolo forte per la gente di Casa Vesina? Il fatto che sia stato comunque, sia stato abdominata, no? In qualche modo. Sì, sì. Allora, chi risponde così è perché vivendo in un periodo in cui il paese è veramente preso l'assalto, da almeno un paio d'anni a questa parte, per ovvie ragioni, per motivi giusti, e quindi si vedono scoraggiati. Penso che la risposta più semplice a questa domanda non è l'ipotesi, è il darsi da fare. Ok. Si cambia, sì, se vogliamo cambiare si cambia. Non ci sono certezze. Ma da dove sei arrivato qui a Casa Vesina? Tre anni fa. Tre anni fa. Come viceparroco. Però già c'eri... Vivevo al Santo Anno. Quindi, cioè, il territorio lo conosci davanti. Ma non frequentavo la gente. Davo all'università, studiavo, non frequentavo la gente. E l'impatto com'è stato all'inizio? Ma l'impatto è la gente molto accogliente. Molto accogliente. E poi è adorato. Molto accogliente. Quando lei ha... Poi è di cultura paesana, quindi bisogna entrare nel loro linguaggio, si fa fatica. I giovani che frequentano l'oratorio, quando tu parti con loro, cioè, in loro senti che c'è comunque questo influsso del linguaggio camorristico, della visione dell'unito, oppure sono bravi ragazzi che veramente... Ma la visione dell'unito i ragazzi ce l'hanno per natura. Ce l'hanno del calciatore, ce l'hanno del cantante. Quelli che frequentano la parrocchia di queste cose non ne parlano. Non ne parlano. Il problema è che non si... Anche i figli di... Non si riesce a preparare tutti. Questo signore lo chiamavano... Ma lui era un commerciante, anche se lo chiamavano utubista, perché qualcuno ci ha detto che era un bravo. Ma non ho mai capito il mestiere che facesse. Però i figli venivano, anzi, davano una mano... Una mano molto bravi. Andare 13, 15 anni, masche e femmine o tre no? Masche e femmine. E la moglie addirittura insegnava all'oratorio... Insegnava, e lei ha una scuola di danza? Ah, lei ha proprio una scuola di danza. Una scuola di danza. Ma qua c'è da che signo? Sì. No, non sapevo. Era sfuggito come... Però non è... Peccato. Se uno guarda la sofferenza della gente, non si può gioire. Puoi dire, ti può dar coraggio ad andare avanti. Non puoi gioire. Io non... Da cristiano, da prete, non canterò mai vittoria quando muore il nemico. Gesù Cristo è morto lui per gli altri. Questo non significa che la giustizia, che l'ingiustizia sia bella. Che la violenza sia giusta. No, questo non significa. È molto sottile perché è facile fraintendere, no? Essere presi per un timoroso, per un connivente, per una condiscendente. Poi, in una modalità in cui la Chiesa è ancora una figura istituzionale d'immagine, il Dio potenza. Allora è facile essere francesi. Grazie a tutti.